Musica Viaggio in Molise torna alla biblioteca Michele Romano di Isernia per la seconda edizione di Ambientamente, un convegno internazionale dedicato alla bioetica della biosfera. Argomento interessante anche quest'anno, si parla di corretti stili di vita, di corretta alimentazione, con particolare riferimento al vegetarianismo. Seconda edizione di Ambientamente, Mitic Internazionale di Bioetica della Biosfera, nasce da un'idea di Giorgio Berchici Sernino, ed è promosso dall'Istituto Italiano di Bioetica della Campania insieme al CIRB, l'UEMS e l'UNESCO. Quindi un meeting davvero di portata internazionale. La prima cosa che salta all'occhio comunque è che Isernia diventa conosciuta anche a livello europeo. Qui ci sono luminari che vengono da diversi paesi europei. Grazie innanzitutto per questa presentazione, perché in effetti è proprio così. Non per merito mio, ma per cortesia loro. Queste persone vengono qui a Isernia a dibattere dei problemi legati all'ambiente, alle abitudini alimentari di tutti quanti noi. L'anno prossimo probabilmente parleremo di acqua e poi dopo vedremo altre cose. È un luogo di incontro e di dibattito soprattutto fra la UEMS, che è la più grande organizzazione medica europea, e l'AFNOMCEO, che è l'organizzazione, la federazione nazionale dell'ordine dei medici italiani. E con il contributo, come appunto lei ha detto prima, del CIRB, che è il centro interuniversitario di ricerca bioetica dell'Università di Napoli, che è una delle più antiche università d'Italia. Quindi sono momenti di grande tensione emotiva, molto felice, e Isernia non può fare altro che rendersi partecipi di tutto questo. L'anno scorso abbiamo avuto una prima dichiarazione, che è passata con il nome di dichiarazione di Larnaca, ma che è stata fatta qui a Isernia, e poi dopo approvata Larnaca dal Management Council della UEMS. Quest'anno faremo un'altra dichiarazione sul vegetarianismo, e quindi Isernia passerà nella storia della medicina, sicuramente con queste dichiarazioni e con questi convegni. Facciamo un passo indietro, questa dichiarazione di Larnaca partorita a Isernia, perché è così. Cosa sosteneva? Questa sosteneva che è un obbligo dei medici e dei cittadini di difettere l'ambiente, di mantenerlo pulito, di consegnarlo pulito alle generazioni future, e di fare tutto in maniera tale da poter rimanere con un ambiente sano e che non faccia male all'uomo. Questa poi, la dichiarazione sul vegetarianismo sarà fatta sabato pomeriggio, in un'apposita tavola rotondo, e quindi si dibatterà di questo tema e si farà una dichiarazione di Isernia. Ecco, perché parlare di vegetariani, vegetarianismo, un tema sicuramente attuale, sempre più persone si avvicinano a questo stile di vita, perché? Perché l'86%, dico l'86% delle morti che avvengono in Europa, e il 76% delle malattie invalidanti in Europa, sono ricondicibili all'alimentazione. Quindi credo che sia un motivo valido per poterlo fare, probabilmente una dieta più vegetale può essere più salutare. Clotilde Punzo dell'Istituto Italiano di Bioetica, sezione Campania, Isernia per il secondo meeting internazionale ambientamente, si parla di vegetarianismo e di biosfera, ma qual è il nesso fra una corretta alimentazione e un ambiente sano? C'è un nesso profondissimo tra la biosfera e un tipo di cultura alimentare, un tipo di cultura che richiede la trasversalità di saperi e di specifiche competenze, non solo, ma anche che coinvolge anche le politiche ambientali e coinvolge anche quelli che sono gli investimenti di tipo economico, sociale e finanziario di diversi paesi che si interessano di queste problematiche, che comunque stabiliscono anche accordi o comunque dovrebbero farlo in vista di una tutela della salute umana e naturale e anche dell'intera biodiversità. Lorenzo Chieffi è il presidente del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e anche un docente di diritto costituzionale. In che modo si può garantire la sicurezza alimentare intervenendo con le leggi? Il problema che si discute oggi in questo interessante convegno sul veggio e terranismo è un tema che in qualche modo interferisce con dei principi costituzionali, come in primo luogo il diritto alla salute. Il diritto alla salute e l'altro aspetto molto importante è quello ambientale. Il rischio che in qualche modo si può paventare è di condizionamenti alimentari che la grande industria, le grosse multinazionali, qualcuno parla di meccadonalizzazione delle abitudini alimentari, possono incidere su quello che è lo stile di vita di un individuo. L'obiettivo di questo convegno è proprio quello di dibattere sulle politiche alimentari che sono condotte nel nostro Paese. Oggi abbiamo l'esigenza di rispettare ad esempio obblighi comunitari che ci danno delle indicazioni su quelli che sono gli stili alimentari che in qualche modo noi dobbiamo osservare. L'uso sbagliato di alimentazioni con proteine animali, ad esempio le esagerazioni non bilanciate con proteine vegetali, potrebbero determinare dei rischi per la salute. Ne derivano anche delle spese per lo Stato da parte del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che malattie e patologie. L'obiettivo di una politica illuminata dovrebbe essere proprio quello di educare, di informare, di in qualche modo dare delle indicazioni su abitudini alimentari, su stili di vita che siano quanto più propensi al benessere dell'individuo. Questa è l'esigenza che ci poniamo in questo convegno. Il professor Alessandro Nardone proviene dall'Università della Tuscia, un docente universitario, si occupa di zootecnia generale e di miglioramento genetico. Un pesce fuor d'acqua, tra virgolette, in un convegno dove si parla soprattutto di vegetariani. Il diavolo in convento praticamente. Nella logica proprio dell'incontro sia stimolante sentire pareri e opinioni diverse a fronte del tema dieta alimentare dell'uomo. Il vegetarianismo va visto come ostile di vita o scelta alimentare per difendersi da determinati rischi di salute o meno. La mia posizione, il mio convincimento è che nella dieta alimentare dell'uomo tutti gli elementi disponibili della natura vadano utilizzati per avere una normale condizione di benessere dell'uomo. Indubbiamente questo pone dei problemi sotto il profilo etico nei riguardi dell'animale o filosofico perché sicuramente l'animale non è contento di essere allevato per poi finire la sua carriera, soprattutto con la macellazione. In generale qui si parla di sicurezza alimentare ma si parla anche di ambiente. Ecco, quanto possono influire i cambiamenti climatici, i cambiamenti ambientali sulla zootecnia, sugli animali? Questo dell'effetto dei cambiamenti climatici sulle produzioni animali e quindi sul consumo di proteine animali da parte dell'uomo è il tema che io affronterò proprio in questo incontro. L'effetto dei cambiamenti climatici è rilevante, in particolare con il mio gruppo di ricerca da anni studiamo gli effetti del caldo sugli animali, vale a dire la risposta degli animali allo stress da caldo e abbiamo avuto modo di verificare una serie di modificazioni che avvengono nell'animale sia per quanto riguarda per esempio la fase riproduttiva, sia per quanto riguarda le singole produzioni. Quindi lo studio attento degli effetti dei cambiamenti climatici sull'allevamento è quanto mai importante per poter assicurare nel tempo, nei decenni futuri, sufficiente approvvigionamento di proteine per tutti quelli che ritengono di dover consumare le proteine animali nella propria dieta. Raffaele Iandolo, il tesoriere dell'Ordine Nazionale dei Medici, esegna per la seconda edizione di Ambientamente. Quest'anno un tema particolare, comunque attuale, si parla di vegetarianismo. Questi convegni sono importanti perché poi si raggiungono delle conclusioni importanti. Per esempio l'anno scorso i lavori di questo convegno hanno rappresentato la pietra miliare della dichiarazione di Larnaca. Quest'anno si sta arrivando a qualche conclusione? Credo che la conclusione principale è che la qualità dei stili di vita poi rende più positivo tutto il resto. Mi spiego meglio. Dal punto di vista nostro, come medici e odontoiatri, se non vengono modificati i stili di vita sicuramente abbiamo dei problemi sia per quanto riguarda le patologie, le patologie per esempio vascolari soprattutto, ma anche in generale per quello che ci riguarda anche le patologie odontoiatriche e le altre patologie che dipendono soprattutto dalla dieta. Un dato importantissimo che è venuto fuori da questo convegno è che addirittura la dieta migliorare la dieta è più efficace del somministrare dei farmaci. Cioè non esistono farmaci rispetto a certi alimenti che possono diminuire per esempio il rischio di infarto, il rischio di inctus di più che non modificare la propria dieta e in generale il proprio stile di vita. Stile di vita, corretta alimentazione, cosa fare? Giornata tipo, cosa mangiare, cosa fare? Questo convegno ha messo l'accento in particolare sul discorso dell'alimentazione ovviamente legata al vegetarianismo, esaltando certi aspetti del vegetarianismo, non tutti ovviamente positivi ma per larga parte positivi e confrontando soprattutto la dieta mediterranea che spesso viene consigliata anche dai nostri medici per risolvere questioni legate soprattutto alla salute, quello che più riguarda e più attiene alla nostra figura come medici odontoiati. Questo sicuramente è un aspetto spositivo, cioè rivolgersi al vegetarianismo per molti aspetti, non tutti, è sicuramente positivo e quindi agevola nel trattamento e anche nella funzione sociale del medico in quanto riduce notevolmente l'incidenza soprattutto delle malattie cardiovascolari. Questo è tutto, ma prima di salutarci vi ricordiamo che questa puntata potete vederla sul nostro canale Telemolise canale 11 oppure sul 12 Telemolise 2 o ancora sul canale monotematico 212 Molise Mio dall'Abruzzo invece potete seguirci sul canale 96 mentre su internet potete seguire il nostro sito www.telemolise.com il link, il banner è sempre quello, Viaggio in Molise